Facciamo un filmatino, un piccolo filmatino. No, filmato. Allora, il primo giorno della vacazione, io sto un po' triste. E' triste? E' un po' triste. Ok, un po' triste perché lascio questa bellezza. E' un po' minerale. In buone mani la lasci? La lascio in buone mani. E' un po' tranquillo che sicuramente la traccaraviene. Eh si. Cosa dici? Assolutamente si. Si è un po' preoccuparsi a cenare in un atto lato. No, ma vedo anche lui che ha lasciato la sua. Ha voluto già lasciarla ancora prima di ieri sera, hai capito? Perché è disperato, no? Hai capito? E' vero o no? Eh si. Ho pianto. Ieri sera infatti non ha dormito bene. Non ha dormito. Non ha dormito. Eh no. Non ha dormito. Nada bene. Buono. Ecco qui la nostra comida. Vi faccio vedere. Guardate. Facciamo una formata. Questa insalata di aguacate. 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 In guandole. 柾. Aguacate. Aguacate. Abrito. Cervezo. Cerveza. 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 transported, sono poarı. Ok ragazzi, finita la vacanza che dire? Direi che è stata una prima di tutto o una buona vacanza Il sole ha tenuto, il mare è stato bello, la ciccia è stata bella Speriamo di tornare, e anche se siamo contenti di tornare all'Italia con altre cose Un lato è cismoso, direi? Agliata il volo